Ombrelli e giacconi a portata di mano, non è ancora giunto il momento di fare il cambio di stagione negli armadi. L'Italia infatti nuovamente nella morsa del Gello, una veloce ondata di freddo tra domani e sabato assedierà la penisola in una morsa invernale. Il sud delle zone adriatiche è le più interessate. La perturbazione arriva dalle lontane Svalbard, dal mar glaciale artico. Dopo un lungo viaggio terminerà la sua corsa sul Mediterraneo. Farà da battistrata una stoccata di aria artica che interesserà la penisola per qualche giorno, come in un classico colpo di coda invernale. Secondo Trebbimeteo, dunque, la primavera è ancora lontana. Di anticicloni per il momento neanche a parlarne e le eventuali fasi soleggiate avranno solo carattere temporaneo. Altre piovose perturbazioni sono infatti attese nei prossimi dieci giorni con temperature altalenanti.